Un balletto per festeggiare l'apertura di un impianto sportivo, un impianto sportivo che la città di Collegno attendeva da anni e ora gli studenti del liceo Marie Curie hanno a disposizione la nuova palestra all'interno del parco che serve anche l'utenza extrascolastica e le società sportive locali. Nessuna cerimonia per l'inaugurazione della palestra ma l'occasione per incontrare gli studenti e gli insegnanti per i quali nonostante le grandi difficoltà economiche la provincia di Torino è riuscita a realizzare una struttura progettata nel pieno rispetto dell'ambiente in cui la scuola è collocata all'interno del parco di Collegno, fra il muro di Cinta e la recinzione della Villa 4 che ospita la scuola. L'importo complessivo dell'intervento interamente finanziato dalla provincia è stato di 1.420.000 euro. La palestra ha una superficie di 600 metri quadrati, può contenere un campo di pallacanestro regolamentare di dimensioni pari a 26 metri per 14 con una fascia di rispetto di 2 metri per parte, il tutto secondo quanto prescritto dalle norme del CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro. Un impianto necessario per lo svolgimento delle attività curriculari della scuola senza le quali ovviamente non si può fare scuola, non potevamo pensare che le lezioni di educazione fisica si svolgessero in luoghi diversi da quelli di una palestra. Però questa palestra viene proprio benedetta dal mondo sportivo perché è necessario assolutamente mettere a disposizione quelle che sono le società sportive del territorio. Senza le palestre della provincia sul territorio non si potrebbe garantire l'attività sportiva. Sono anni e anni che la provincia fa questo. Io mi auguro che una volta terminata quella che è la punzione delle province come è stata finora si trovi il modo per non far perdere questa grande e preziosa risorsa che le province mettevano a disposizione del mondo sportivo. Non vorrei che lo sport avesse veramente degli effetti negativi da questo cambiamento. Sarebbe estremamente grave. Silvana Cossato, sindaco di Collegno, per la vita sociale di questa città ma per l'ambiente sportivo collegnese questo impianto che valenza ha? Sicuramente importante perché arricchisce il nostro patrimonio sportivo che è già molto diffuso e presente anche numericamente però è un impianto in più quindi potremo dare maggiori risposte alle società sportive collegnesi. Un impianto di qualità nuovo quindi anche questo sicuramente aiuta e poi sicuramente comunque a noi interessa anche molto avere un liceo con la palestra quindi c'è questa attenzione al mondo sportivo ma c'è anche questa attenzione alla scuola che ci fa vedere con soddisfazione questa realizzazione.